Me piavate per matto, me piavate per matto Anzi, li piavamo per matti, sincero Io sinceramente no, non li prendevo per matti Fa' una cosa del genere e non è da matti È la fattibilità dell'operazione in sé Che era da pazzi, era impensabile, era utopia Salutiamo dopo 20 secondi Ciao ragazzi e ben ritrovati Ovviamente parliamo di Cristiano Ronaldo alla Juventus Me l'hanno chiesto loro il tuo parere Certo, certo, ovviamente Io ho già espresso il mio parere Sta diventando consuetudine dove tu prima dici la tua E poi in reazione subentro io Ho capito, e se ogni volta tu a casa non ci stai e io ci sto No, appunto, appunto, ma così è anche più bello Perché comunque è anche spezzata la cosa Tanto direi il contrario E non ci rilunghiamo troppo, non lo so Non ho manco visto cosa hai detto Sto orientando praticamente adesso a casa Parto dal principio No, voglio che parti dal principio ma ti do lo spunto Lo spunto è questo Noi ne avevamo parlato, no? Fattibilità dell'operazione o meno Sì E comunque alla fine Sì, sapevamo che poteva essere una cosa fattibile Ma tra il dire e il fare Sicuramente c'è del mezzo il mare Sì Come l'hai vissuta? Tu eri al lavoro in quel momento, no? Ovviamente Ovviamente Ti è arrivata la notifica Hai visto ufficiale Ronaldo Hai pensato a che cosa? Ho seguito quasi passo dopo passo Aspetta che mi scaccolo un attimo Che c'ho una caccola Che mi sta a peli Che schifo Dai levati Ma in un momento che butti il telefono per te Eh, ha capito ma stati Gli fa venire vomito a sti boracci Eh Io Sì, ok No, comunque Stavo seguendo la cosa passo dopo passo Perché comunque il telefono Continuava ad illuminarsi E a bombardarmi di notifiche Di aggiornamento Io già da ieri sera Devo essere sincero Mi è arrivata a mezzanotte La notifica di Sky Con scritto Oggi giornata decisiva per Ronaldo Alla Juventus Già hanno anticipato Quindi io già da là ho detto Avevano anticipato Guarda tu questi Se effettivamente non ci hanno azzeccato Che domani È la giornata proprio clou E infatti cos'è stato? Oggi è stato un divenire proprio Agnelli che va in Grecia Il jet privato è Mendes che strappa l'accordo Il sì anzi A Florentino Perez Per 105 milioni L'opetequi che prova in extremis A cercare di convincere Ronaldo Non l'avevi letto No, non l'avevo letto Ma tanto una volta Che Florentino Perez Ha detto sì La cosa è fatta Perché comunque Il giocatore La volontà l'ha espressa È già da tempo Esatto Il accordo pure Era stato già trovato Con la Juventus Quindi ormai la cosa Era bella che è fatta Mancava solo il sì De Florentino Perez Che fino all'ultimo Ha provato a trattenerlo Ma ormai Ma poi c'è stata Anche la dichiarazione Pubblica di Ronaldo Perché ha fatto una lettera Ai tifusi del Real Madrid Quindi Secondo me Perez Era come diceva Sky Gli ha detto Mi devi fare una dichiarazione Scritta in cui Dici che te ne vuoi andare Però ormai la cosa Era fatta C'è Florentino Perez No, no Lui gliel'ha fornita Te lo dico io Ronaldo gliel'ha fornita Quando l'ha vista Ha detto ok Fate E dopo è stata pubblicata Te lo dico io Sarà andata così Sicuramente Può essere anche andata così Ma tanto ormai La cosa era bella che è fatta A prescindere Secondo me Allora C'era ben poco da trattenere E ben poco da fare Ti faccio un paio di domande Innanzitutto Tra le varie operazioni Della Serie A No? Uno può rimembrare Un certo Ronaldo Il fenomeno all'Inter Un certo Ronaldinho Al Milan Andando più indietro nel tempo Un certo Diego Armando Maradona al Napoli Come la vedi Questo tipo di operazione Non solo in termini economici Perché se guardiamo I termini economici Non c'è paragone Né con Maradona Né con Ronaldo Né con... Oddio forse No con Maradona pure All'epoca Guarda che era Una cifra statosferica 12 miliardi di vecchie lire Sì ma non so quanto percepiva Maradona al Napoli Non so quanto percepiva Economicamente Parlando Non si può fare un paragone Perché erano epoche Completamente diverse Esatto Però se ti posso dire Non è neanche paragonabile Forse proprio per epoca Il trasferimento In sé per sé Forse è più paragonabile A Ronaldo Il fenomeno all'Inter Mamma mia Perché comunque Era il miglior giocatore Del mondo Che veniva acquistato E veniva a giocare da noi Maradona Sì Era comunque Uno all'epoca Dei più forti Prima di andare al Napoli Non era proprio Il migliore in assoluto Anzi Lo è diventato Però insomma Era fortissimo Era considerato un bidone Per intenderci Non proprio Un bidone Cioè bidone 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 No Non esagerà col termine Quasi un bidone Perché non è che Col Barcellona C'abbia avuto un grandissimo rapporto Maradona Quindi Di star Napoli Appunto Dopo un anno dal Barcellona Se ne va al Napoli Quindi all'epoca Non era eccellentemente Cioè aveva quel numero uno In assoluto Cristiano Ronaldo Diciamo che ha fatto una carriera Si è fatto una carriera Il classico Self Made Man Self Made Man Ma soprattutto Self Made Man numero uno Da sempre Numero sette Numero sette Sì numero uno al mondo Vabbè numero sette Numero sette Diciamo che è uno dei due Numeri uno al mondo Perché Sì ma a pari merito Sempre a pari merito Con Messi Non voglio aprire polemiche Perché in tanti diranno Messi C'ha più Come si dice È più talentuoso È più talentuoso Assolutamente Ma Ronaldo si è costruito Messi le cose Gli riuscivano facilissime Sul campo Esatto Ronaldo ha dovuto lavorare Sul suo fisico Una cosa che abbiamo detto Anche tempo fa Se vedevate Messi Giocare dieci anni E come gioca oggi Giocare la sessi identico modo Cristiano Ronaldo no Ovviamente no Non dico che era Non dico che era Come un cieco Che ha cominciato a tirare Sassate E ci ha cominciato Improvvisamente a vedere Però insomma Il talento di base ci deve essere Però ovviamente Messi ha un talento Molto più Innato Innato Rispetto a quello di Ronaldo Che però comunque Con l'allenamento e la costanza È arrivato ai numeri di Messi E non è facile ragazzi Perché quello che riesce a Messi Non riesce a Ronaldo Personalmente Preferisco Ronaldo Io pure Preferisco Ronaldo Comunque Ma non perché Messi Non si sia più scarso Perché la gente pensa Non si è scarso Non si è scarso Non si è scarso Non si è scarso Preferenza personale Capito no Preferenza personale Basta Esatto Esatto E comunque Tornando al discorso principale Che ancora non mi sono espresso Comunque Cosa ne penso De Ronaldo alla Juventus Dicevo che partivo dal principio Inizio video Quando è uscita L'indiscrezione Da tutto sport Ronaldo alla Juventus Io sinceramente Te sei fatto due risate Te sei fatto due risate con me Le sono fatte pure io No Devo essere sincero No Quando ho visto Quell'indiscrezione Ho detto Su tutto sport Io sinceramente Te dico la verità Non mi sembra La solita bufala Che lanciano Non lo so Ci ho avuto Una sorta di sesto senso Ho detto Questa non è la classica bufala Veramente potrebbe essere Che Ronaldo vada la Juventus Perché comunque Il quadro Cioè il mosaico C'era già Mancava forse un pezzo Ed è da là Che forse Ma sicuramente Ma sicuramente Sapevano già qualcosa Però io ti dico la verità Lì per lì Quando ho letto A proposito Avevamo fatto il video Ronaldo alla Roma Mi hanno detto Gli iscritti Perché io non ricordo Quello che dissi Che qualora Ronaldo Fosse arrivato in Italia Che avremmo fatto Eh io mi sarei tagliato l'uccello Ah Bene Bene Sì sì Farò un video Sì sì Arriverà un video Col taglio dell'ucce Perché Potrei riproporlo Visto che comunque Non anticipare Non anticipare E va bene Quindi Scherzi a parte Operazione Ronaldo Prossima stagione Juventus Come lo vedi Allora Non parlare di tattica Né di modulo Perché ci faremo un video dedicato Un video a parte Per quanto riguarda Il livello della Serie A Devo essere sincero Rimane tutto uguale Tutto invariato Cioè secondo me La Juventus Fanno sport a sé Come è già successo Ah Allora Se mi parli Dei valori in campo Sì La Juventus Allora Per quanto riguarda La Serie A Non ci sarà quasi Nessuno spostamento Perché comunque La Juventus Rimane Rimane la numero uno A prescindere Ovviamente Ma io te parlo In termini monetari Dei soldi che entrano Dei gente che vede Ronaldo che arriva in Serie A Ma sai quanta gente Seguirà di più la Serie A Quello gioverà Tutta la Serie A Perché comunque Sponsorizzerà Tutte le squadre Dei Serie A Gente che conosce Ronaldo E che non conosce Il Parma Le Empoli O chi per loro Diventa uno Sponsor Ma sapete Ronaldo Quanto sei Quanti follower C'ha su Instagram Facebook Tweet Voi non potete immaginare Allora il giro Non è solo quello Perché magari tu pensi Ad una società come la Roma Ad una società come il Napoli O l'Inter stessa Che vogliono portare Campioni a casa Una motivazione Una Basterebbe Crei una squadra Intorno ad un campione Potenziale Di un campionato straniero Gli dici Vieni a vincere lo scudetto O almeno a provarci Contro la Juventus Di Cristiano Ronaldo Messi alla Roma Me lo sento Me lo sento Me lo sento Non proprio Messi Però comunque Se ci avessimo i soldi Più che altro Magari pure un Lewandowski Un Suarez Non è facile Però Secondo me Campioni testo cali Se ci potessi Lavorare sopra Forse il Napoli Ce la potresti fare pure Forse il Napoli Il problema è che Ci mancano i soldi Perché comunque La Juventus È l'unica società in Italia Che appunto Come avete ben visto Ci hanno lo stadio De proprietà Ma non solo Ragazzi È una programmazione Lungimirante Che parte ormai Dalla Serie B Quindi da più di dieci anni A sta parte Dalla rifondazione totale Da appena è cominciata La Serie B La Juventus Ha detto stop Dobbiamo ricominciare Dobbiamo riprogrammare Da zero In dodici anni In dodici anni Sono passati da Serie B Ad acquistare Il giocatore più forte Nel mondo A sette scudetti Programmasione lungimirante Sei scordato I sette scudetti De traverso Due finale De Champions League E quanta E va bene Comunque dicevo Io da tifoso della Roma So preoccupato Perché ti ripeto Tu dici no Gli equilibri Restano gli stessi È la più forte Però secondo me Da irraggiungibile A più irraggiungibile Scusate Più di irraggiungibile Non c'ha senso È già irraggiungibile Tu dici Uno che sta sulle stelle È più in alto Come chi raschi Al fondo del baril È più in basso Non c'è porna Però in realtà Il cielo è infinito Quindi potrebbe andare sempre Però aspetta Mi riallaccio A sto discorso Là non parliamo De Serie A Là parliamo De Champions League Allora Visto che comunque Parliamo De ancora più in alto Ed è là Che si spostano Gli equilibri Si sposteranno De tanto L'hai vista La formazione della Juve Della prossima stagione Ne parliamo Nel prossimo video Dimmi solo Ragazzi Certo che l'ho vista E sinceramente Fa paura Fa veramente paura Ma fa paura a tutti Ma soprattutto Perché io ho sentito Che dovrebbe arrivare Un altro centrocampista De quelli Importanti Guarda Se ad Milinkovic Savic ragazzi Io veramente Ma me l'hai anticipato Quello fa un altro video Oddio scusa No niente 155 milioni Se dice che Stia correndo Proprio con Real Madrid Cioè Una delle due Se lo potrebbe accaparrare Io non so Fino a che punto Possa essere attendibile Sta cosa Ma se realmente Dovessero mantenere Piani C'è Mbrecian E prende anche Milinkovic Savic No sarebbe Con Ronaldo Di Bala Higuain dovrebbe partire Quadrato Potrebbe Non dovrebbe C'è Tagla Scosta Cioè Ragazzi L'attacco da Juventus È spaventoso Quadrato Ce lo siamo scordato Mi sa che l'ho detto Vabbè se non l'ho detto L'hai ricordato te Comunque ragazzi Bernardeschi Che secondo me Andrà a fare il diciottesimo Un panchina Non lo so Però guarda È una squadra Che Cioè Bernardeschi Potrebbe essere Titolare inamovibile In Coppa Italia Per fare i fiat Ma potrebbe essere Titolare inamovibile In qualsiasi squadra De Serie A No Infatti no In Coppa Italia Ma forse nemmeno Le squadre forti Se fanno così Caro mio Le squadre forti Se fanno così E lo sai qual è Il bello dei allegri Però paradossalmente Il punto debole Dalla Juventus Potrebbe essere La macchina lunga No Il portiere No No Cesni mi piace E Perin sinceramente A me dà garanzie E io ti dico la verità Punto debole Perché Perin si prenderà Il posto da titolare Su questo io sono convinto Perché adesso danno Cesni Titolare Per forza E' una questione De gerarchie Ma io ti assicuro Che alla lunga Perin se piglia Il posto Perché la linea Della Juve La conosciamo tutti No ma non è solo La linea italiana E secondo me Proprio che Perin Troverà l'ambiente ideale Per fare proprio L'esplosione Dei finiti Perin è un portiere Con i contro coglioni Che in tanti Sottovalutano Perché giocava nel Genoa Ma è sempre Pagato 12 milioni Più zero E bonus Zero Zero Veramente zero Quindi comunque Chiudendo il video E facendo un rapido voto Così Tanto per buttarlo là Al calciomercato O fantamercato Della Juventus Io darei un 10 Piero Pensa se arriva Mininkovic e Savic Che gli dai 13 No Pudoli mortacci Tua della zanzara Di merda Guarda che grossa qua E no Se arriva Mininkovic e Savic Vabbè Io non saprei Non saprei più Trovare aggettivi Per descrivere La squadra Perché ci hanno Tutto Tutto Non ci hanno un punto debole Sarebbero veramente La Juventus Più forte Forse della storia Guarda Già hanno fatto dei paragoni E te dico che Sulla carta Mesurerà la Juventus Già adesso Potrebbe essere La squadra più forte De sempre Credo proprio di sì Ma ovviamente La Juventus cercherà Proverà A puntare Proprio alla Champions League Non dico che lascerà Lo scudetto in disparte Ecco Chiudo il concetto Che stavo esprimendo prima Massimiliano Allegri Che in tanti criticano Hanno criticato Anche sta stagione Alla fine si è portato Un scudetto a casa Che sta venendo a ruttare Sì È un allenatore Non un giocatore Che sa far girare Tutti i giocatori Che ha a disposizione Una volta Se inventa la difesa E una volta Cambia modulo E una volta C'ha quei pochi giocatori E fa giocare a quelli E c'hai solo le riserve Fai giocare le riserve Il risultato Anche per 1-0 Se lo porta sempre a casa Infatti io preferirei Nella vita 100 Allegri Piuttosto che Un Guardiola Per esempio Cioè io Sono più Calcio pane e burro Cioè proprio una cosa semplice Guardiola diciamo Che ha creato Una filosofia del gioco Che Io personalmente Ho apprezzato Ai tempi del Barcellona Ultimamente Te dico che Sta andando In decadenza Decadenza L'ho detto tipo Alla Malgioio Perché magari Le squadre hanno iniziato A capire Il modo di giocare E è diventato Un Tiki Taka sterile Quello che ha fatto La Spagna Praticamente Perché è rimasto quello Ha fatto 100 punti In Premier League Sì Ha fatto 100 punti In Premier League Però diciamo Che quel tipo De Tiki Taka Che fa adesso In Premier È diverso Sì ovviamente Non è Tiki Taka Che si fa nel calcio spagnolo Perché non c'ha Quei giocatori Ma non è solo Questione di giocatori Io stavo a parlare De filosofia del gioco De Guardiola Non del Sidi Ma proprio in generale Del Barcellona Del Guardiola Che è nato Come Guardiola Quello io dicevo Però vabbè Comunque Tornando al discorso principale Che ci siamo dilungati Un po' troppo Eh sì Ronaldo fa paura Ronaldo e la Juventus Quest'anno fanno Veramente paura Io voglio andare Allo stadio Per vederlo Perché comunque Lo voglio vedere Giocare dal vivo Non l'ho mai visto Ronaldo dal vivo Giocare E mi piacerebbe Veramente Converemmo occasione Sicuramente Assolutamente Sperando Siccome lui Quando vede la Roma Si infiamma Io spero Eh non ti ricordi Ormai Non ti ricordo Lascia perdere È proprio perché Hai detto sta cosa Che E visto che Ti ricordi Roma Porto Noi ogni volta Siamo andati Allo stadio In Champions League Ma anche in Campionato Forse è meglio Che non ci andiamo No infatti Ragazzi fateci sapere Poi che cosa ne pensate Però Già me l'hanno detto In mille modi Fatemi sapere più che altro Se siete d'accordo Con quello che ho detto Esatto Che tanto Penso sia un pensiero Abbastanza unanime Abbastanza condivisibile Abbastanza condivisibile C'è anche chi dice C'è qualche Qualcuno che dice Eh ma Ronaldo Ha 33 anni Potrebbero aver fatto Commesso un errore Perché comunque In 33enne A regale Da biologica De Ronaldo Posso dire una cosa Sì Se la Juventus Non dovesse vincere La Champions Da qua A 2-3 anni Sarebbe un fallimento Totale Perché comunque 105 milioni Con 33enne A 30 milioni A stagione Ragazzi E non vinci L'obiettivo principale Che ormai solo quello Vuoi È fallimento Ma sicuramente Io credo Mi spiace dirlo No no ma è giusto È giusto È così È così Se tu l'hai preso Per vincere la Champions Dopo 4 anni di contratto Non riesci a vincerla Ovviamente sarebbe un fallimento Certo è Che se arrivi in finale La perdi Fare corna Fatevele corna Tifosi della Juve La riperdi Comunque se è arrivato in finale È sempre una finale No comunque Vinci altri 4 scudetti di fila Vinci la Coppa Italia Vinci la Supercoppa Vinci la Proprio fallimento Io non lo considererei Perché alla fine Ronaldo te porta sordi Ronaldo è quello che Lo posso fare Come lo puoi fare La Juventus La vincerà la Champions Secondo me non quest'anno Quest'anno forse no Ma la prossima La stagione successiva Secondo me potrebbero vincere E Ronaldo sarà protagonista Vincerà il pallone d'oro Ronaldo con la Juve Potrebbe Potrebbero vincere Se porta la Champions La Juventus È quasi automatico Che c'è il pallone d'oro In tasca Mamma mia rega Mamma mia rega Io ancora non ci credo Cioè È una cosa che Se voi ci pensate E dite Ronaldo alla Juve Voi immaginate Che la prossima stagione Cristiano Ma già il 5 agosto Si sfronteranno Ma che cazzo sto a dire Si affronteranno Si affronteranno Il Real Madrid Sua ex squadra Ormai È una amiche E la Juventus Che cazzo Che cazzo vorrei International Champions Cup Ma che frega Dalla Champions Cup Ci sta pure la Roma Ci sta pure il Milan Non mi ricordo Ma chi se ne frega A me mi interessa Io voglio guardare Mi sa che gioca Nei 4 del mattina Ma la vedo Non mi frega niente Senti ma vogliamo Chiudere sto video Sto 17 minuti Che stanno a parlare Commentate Condividete Col vostro parere Iscrivetevi al nostro canale Fate iscrivere le vostre nonne Le vostre zie Le vostre madri Non sono insulti Sembrano insulti Fate iscrivere Giorgino e Cristiano Ronaldo Taggateci da per tutto Da per tutto Dobbiamo iscrivere Dobbiamo farli iscrivere Detto questo Profilo Instagram Canale Telegram Ci seguite anche lì Vi inviamo le feed Che Youtube non invia E vi fate gli affaderini La nostra privata Buonanotte ragazzi Aspetta che devo provare A chiudere il video Che mi sta su dalla mano C'ho la cover di legno Mi si è frascicata tutta Ragazzi miei Alla prossima